Buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo appuntamento dei webinar di AIRC nelle scuole, uno dei tanti progetti che Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro dedica alle scuole di ogni ordine e grado, con proposte iniziative tutte gratuite che come sempre potete trovare sul sito scuola.airc.it e se invece volete dare un'occhiata ai webinar che abbiamo già condotto e realizzato potete andare direttamente sul sito webinarscuola.airc.it. Io sono Valentina Murelli, sono una giornalista scientifica, significa che mi occupo prevalentemente di temi scientifici e in particolare di salute e di ricerca biomedica e oggi vi do il benvenuto, come potete vedere, da casa mia perché anche io come sicuramente voi resto a casa, un po' perché è diventato un obbligo ma soprattutto perché voglio fare la mia parte per cercare di ridurre la capacità di diffusione di questo coronavirus che è venuto a scompaginare così tanto le nostre vite. Però insomma con Fondazione AIRC cerchiamo comunque di essere al vostro fianco e dare un supporto alla didattica a distanza. Sono in compagnia virtuale della ricercatrice Ann Zeuner, anche lei a casa sua a Roma. Ciao Ann. Ciao, ciao a tutti. Con lei parleremo di un tipo particolare di cellule, cellule staminali del cancro, cioè le cellule che contribuiscono a mantenere vivo il tumore e a renderlo resistente alle terapie. Prima di cominciare però due parole su di lei e una segnalazione. Ann ha studiato scienza biologica all'Università di Roma Sapienza, dove ha conseguito anche il dottorato di ricerca in scienze immunologiche e ha cominciato la sua carriera di ricercatrice proprio in laboratori di immunologia all'Università di Roma Torvergata, il CNM. Dopo qualche esperienza all'estero adesso è prima ricercatrice nel Dipartimento di Oncologia e Medicina Molecolare dell'Istituto Superiore di Sanità. In tutto questo è una grande appassionata di divulgazione della scienza e ha anche frequentato un master in comunicazione della scienza presso la Scuola Superiore di Studi Avanzati di Trieste, dove peraltro ci siamo incrociate e conosciute per la prima volta qualche annetto fa. Ed ecco invece la segnalazione. Ci piacerebbe che questo webinar, come altri che abbiamo fatto, sia il più possibile interattivo, quindi non prendetelo proprio come una lezione canonica, ma insomma se volete fare domande, interagire, chiedere chiarimenti su quello che man mano Anne ci spiegherà o fare domande sulla sua vita di ricercatrice, insomma su qualunque curiosità vi venga in mente a proposito di quello di cui parleremo, fatelo in qualunque momento. Lo potete fare attraverso la chat del webinar che state seguendo e noi cercheremo appunto di rispondere in tempo reale. Non abbiate paura, è un'occasione straordinaria per essere in contatto anche se virtuale con chi fa della ricerca il proprio lavoro e la propria passione, quindi se potete, se vi interessa, sfruttatela. Allora Anne, prima di entrare nel vivo, tu sei appunto una biologa ricercatrice, però ci racconti qualcosa di prima dell'università, quindi magari che scuola hai fatto e come ti è venuto in mente a un certo punto di studiare proprio biologia. Allora, io non sono una di quelle persone che ha sempre avuto le idee chiare su cosa fare, anzi la mia scelta l'ho fatta abbastanza tardi. Da ragazzina posso dire solo che avevo un grande amore per la natura e mi piaceva guardare i semi, le formiche, i ragnetti, le lumache che deponevano le uova e a scuola più che altro mi piaceva l'arte, più che italiano, matematica. Al liceo volevo fare il liceo artistico, però un po' spinta dalla mia famiglia, poi ho fatto il classico, quindi avevo le idee ancora più confuse e mi sono ritrovata alla fine del liceo che non sapevo assolutamente cosa fare. Allora ho scelto la facoltà di fisica perché volevo fare l'astronoma, ma non era la scelta giusta. Dopo un anno me ne sono resa conto, anche perché c'era tanta matematica e io non ero molto portata e quindi dopo un anno di fisica mi sono trovata ancora a brancolare nel buio. Questa secondo me è una storia molto bella perché a volte sentiamo un po' di pressione dall'esterno decidere fin da piccoli ad avere le idee molto chiare da subito, invece non è necessariamente così e si può avere poi una carriera straordinaria anche partendo appunto con le idee un pochino confuse magari all'inizio, che poi non è detto che siano confuse perché comunque è un filo conduttore di passione per la natura, quindi per i viventi in qualche modo appunto c'è sempre stato. Però al di là di questo appunto la fase di brancolamento nel buio non deve essere necessariamente vista come qualcosa di negativo che impedirà a un certo punto di realizzarsi. È una fase creativa diciamo. Una fase creativa, ottimo. Poi probabilmente insomma nonostante tutta quella matematica del primo anno di fisica avrai portato sicuramente a casa qualcosa anche da quell'esperienza. E quando hai capito invece studiando biologia di voler fare la ricercatrice, perché appunto uno può fare il biologo e poi fare altri lavori non necessariamente alla ricerca, e di occuparti di immunologia che è stata poi la tua specializzazione e di ricerca sul cancro e di cancro. Anche lì quando ho cominciato biologia non sapevo bene dove sarei andata a parare, perché per me biologia che ho scelto proprio seguendo il mio grande interesse per la natura era un po' come una scatola piena di tutte cose interessanti, perché biologia contiene lo studio delle piante, degli animali, dei batteri, dei virus, del DNA, del corpo umano e dei suoi meccanismi. Quindi ero lì un po' che curiosavo e che saltavo da una cosa all'altra e la scelta l'ho fatta proprio agli ultimi anni di università. È bellissima questa definizione di biologia come scatola piena di cose interessanti, una scatola, una camera delle meraviglie, no? Fiene appunto di cose interessanti e alla fine perché proprio l'immunologia? Cosa ti ha attratto di questa disciplina? Che tra l'altro è difficilissima, secondo me è uno dei rami più difficili forse della biologia. È uno dei rami più in rapida evoluzione forse, quello sì, però è molto affascinante. Ecco ho avuto un po' alcune persone che mi hanno incoraggiato in questo senso, una mia amica più grande che faceva biologia che mi è stata vicino e mi raccontava quello che faceva e appunto mi ha un po' incoraggiato in questo senso e poi quando facevo il primo anno di università a un amico a cui volevo molto bene è morto il padre per un tumore al cervello e questo mi ha colpito molto e probabilmente ha contribuito a portarmi verso questa scelta di studiare immunologia e poi immunologia dei tumori. C'è qualcosa che pensi che sia stato poi veramente determinante, importante nella tua formazione e appunto nel corso della tua carriera, qualche figura di mentore, qualche libro magari che hai letto, qualche, non so, qualche riflessione particolare che una ce l'hai già raccontata questa vicenda personale che ti ha toccata e che quindi ti ha un pochino spinta in una direzione. Sì, sicuramente una figura molto importante è stata l'incontro con un altro giovane ricercatore. Allora parliamo degli anni 1994 ed era Ruggero De Maria che adesso è diventata una personalità molto nota nel nostro campo e uno dei migliori ricercatori italiani e siamo un po' cresciuti insieme in questo campo e ci siamo aiutati molto. Ecco, siamo qua oggi appunto per parlare di cancro, non ne parliamo con delle classi di scuola secondaria di primo grado, il cancro non è esattamente un argomento piacevole, oggi forse siamo anche un po' tutti orientati verso le informazioni che ci arrivano rispetto a questo coronavirus e così via. Perché parlarne? Perché secondo te ha senso invece continuare a parlare di questo argomento oggi? Ha molto senso continuare a parlarne perché il cancro è una malattia che tocca sempre più persone e sempre più famiglie e anche se grazie alla ricerca negli ultimi anni è diventato più curabile, comunque bisogna trovare nuovi modi di affrontarlo. A proposito del coronavirus, senza voler assolutamente sminuire quello che sta succedendo in questi giorni, per cui siamo tutti molto preoccupati e anche molto addolorati, però vorrei ricordare che in Italia ogni giorno muoiono circa 460 persone per via del cancro e questo è successo in tutti gli anni passati e purtroppo continuerà a succedere ancora per un certo tempo e quindi le cifre sono insomma abbastanza paragonabili a quelle dell'emergenza attuale. Quindi il cancro può essere paragonato un po' a una pandemia silenziosa, per cui ci sarebbe bisogno assolutamente di dedicare più attenzione e più risorse. Più attenzione e più risorse, poi vedremo alla fine di questo webinar più attenzione anche rispetto alla prevenzione che è una strategia fondamentale per appunto anzitutto affrontare il cancro in una prospettiva positiva per evitare insomma il più possibile di mettersi in condizioni che possano facilitarne l'insorgenza. Oggi come abbiamo anticipato con te andiamo in particolare alla scoperta di queste cellule particolari, le staminali del cancro. Intraprenderemo un piccolo viaggio, insomma un viaggio della durata di una mezz'oretta che ha alcuni ingredienti, dei protagonisti e quali sono un po' questi ingredienti di questo viaggio? E cominciamo a vedere le slide che hai preparato per noi. Gli ingredienti di questo viaggio sono principalmente tre. Uno è il protagonista che è il ricercatore, che è un po' come un castoro, ecco un animaletto ostinato, paziente, molto molto curioso. Poi abbiamo un territorio da esplorare che è il cancro con le sue zone più misteriose che sono proprio queste cellule staminali tumorali che incontreremo insieme in questo percorso e alla fine ci aspetta un tesoro, un tesoro di nuove conoscenze che servono a rendere il cancro sempre più curabile e queste conoscenze come vedremo le possiamo mettere in pratica nella vita di ogni giorno. Perfetto, molto bella questa rappresentazione appunto, che dà proprio l'idea di un viaggio, spesso viene detto che la ricerca è un viaggio e quindi qui lo vediamo in modo molto concreto. Allora cominciamo a conoscere meglio questo questo protagonista, il ricercatore o la ricercatrice appunto nel tuo caso. Chi è? Cosa fa? Quali sono le sue difficoltà? Ecco qua vediamo, partiamo dalle cose difficili, dagli ostacoli. Il ricercatore, allora vediamo prima la parte brutta e poi la parte bella della vita del ricercatore. Il ricercatore è un po' l'indiana Jones della ricerca, nel senso che è un esploratore che ogni giorno per riuscire ad arrivare alla scoperta deve superare tante tante difficoltà. Le difficoltà principali per un ricercatore che lavora in Italia sono la scarsità dei finanziamenti pubblici, del sostegno pubblico alla ricerca, le grandi difficoltà che devono incontrare i giovani ricercatori come tanti anni di precariato, stipendi molto bassi, l'insicurezza del lavoro e una difficoltà particolarmente odiosa è la burocrazia che ci costringe a perdere a volte anche più della metà del nostro tempo in cose che sarebbero abbastanza inutili e risolvibili in altro modo. D'altronde fare ricercatore ha anche tanti lati belli, se no non lo farei con tanta passione. Uno dei lati più belli è l'amicizia e il senso di solidarietà che si sviluppa durante il lavoro di squadra. Qui vedete una foto del mio team fatto tutto di ricercatrici, salvo ogni tanto qualche studente maschio che passa e rimane un annetto, con cui ecco c'è un rapporto molto molto bello di solidarietà e di spirito di squadra. Poi c'è il gusto della scoperta perché poche cose sono più belle e più entusiasmanti di mettersi al microscopio e vedere queste stupende cellule e vedere cosa fanno, come sono composte e qui vedete delle strutture tridimensionali di cellule tumorali che vedremo più in dettaglio più avanti nella presentazione. Poi c'è una sensazione molto bella di fare qualche cosa di utile per chi soffre e questa è una sensazione che veramente ti aiuta ad alzarti la mattina anche nelle condizioni difficili e andare a lavorare con entusiasmo e con tanta ostinazione. E infine è bellissimo lavorare con l'AIRC perché è come una grande famiglia di ricercatori, volontari e sostenitori. Qui vedete una foto scattata poco più di un mese fa quando siamo andati insieme ai volontari e anche alcuni ragazzi molto giovani come vedete a vendere le arance per raccogliere i soldi per la ricerca. In questi momenti dico a tutti che è tanto importante il sostegno di ognuno sia per vendere che per acquistare le cose. Ecco, hai mostrato questa foto di gruppo, questo lavoro di squadra, queste giovani ricercatrici, hai parlato degli studenti, hai parlato delle difficoltà e degli aspetti positivi della vita del ricercatore, lo hai descritto come un animaletto curioso, ma esattamente che cosa serve per diventare un ricercatore? Può farlo chiunque? Che cosa? Devi essere super intelligente fin da piccolissimo? Quali sono le caratteristiche, magari anche le caratteristiche di temperamento che possono aiutare in questa professione? Sì, allora diciamo che secondo me non ci vuole un talento particolare di quelli che si vedono sin da piccoli, non è necessario essere un genietto che da piccolo fa gli esperimenti, assolutamente no, perlomeno io non lo ero. Alcuni tratti di carattere però sì, direi che ci vogliono e sono una grande fantasia, una grande creatività perché il ricercatore non deve battere delle piste già battute ma deve dire qualcosa di nuovo. Poi ci vuole infinita pazienza e ostinazione perché il 95% degli esperimenti non vengono come uno si aspetta e quindi deve mettersi lì, capire se ha sbagliato oppure se è semplicemente un risultato nuovo, ma il motore trainante di tutto è che ci vuole tanta tanta curiosità. Certo, se mi permettete una nota personale, un po' il motivo per cui io avendo cominciato insomma i miei studi, anch'io come biologa, avendo fatto un dottorato di ricerca, a un certo punto ho detto no, io ho questo carico del 95% degli esperimenti che non riesce, non lo sopporto, voglio vedere qualcosa alla fine della mia giornata, ho una stima e un'ammirazione grandissima per chi ci riesce, però non era la mia strada come si dice, ma mi piace tantissimo invece lavorare con i ricercatori perché effettivamente aprono dei mondi meravigliosi ogni volta che si può parlare con loro. E ancora una nota, grazie a te e grazie a voi, al vostro lavoro, come funziona un pochino la giornata tipo di un ricercatore? Ora tu sei prima ricercatrice, team leader, quindi immagino che tu sia anche molto coinvolta in quella parte magari un po' più noiosetta, che è quella della burocrazia, della ricerca di fondi, però invece magari i ricercatori più giovani, i tuoi studenti, le tue studentesse, che tipo di vita fanno? Perché a volte c'è un po' l'idea che il ricercatore sia questo animale, sia ostinato, ma anche una specie di equivalente del topo da biblioteca, non il topo da laboratorio, dedicato solo a quello che non può avere passioni all'esterno. È così? Assolutamente no. Hai detto bene quando dicevi che io faccio anche delle cose un po' noiose, come scrivere progetti, lavoro molto al computer in effetti, ma le mie ricercatrici passano, è vero anche loro studiano tanto perché in questo lavoro non si finisce mai di studiare, ma passano tante ore a lavorare proprio con le cellule sotto la cappa sterile e a estrarre proteine, a estrarre DNA per studiarli e ogni giorno passiamo spesso anche diverse ore insieme per ragionare insieme e per progettare gli esperimenti in modo da ottimizzare sia il tempo che le risorse e anche proprio per capire perché a volte gli esperimenti non vengono e per capire se in quel risultato fallito invece c'è qualcosa di nuovo che noi non avevamo ancora capito e devo dire che i momenti che passo insieme alle mie ricercatrici a ragionare sono più belli della giornata lavorativa. Posso immaginare tra l'altro dicevi di questa fantasia di creatività che sono un po' necessarie per fare ricercatore come diciamo doti individuali ma poi si arricchiscono probabilmente in questi momenti di gruppo no perché? Assolutamente sì e poi sul fatto che di essere topi da laboratorio beh a volte un po' lo siamo effettivamente però questo il lavoro di laboratorio ci lascia anche un po' di tempo per avere una vita e avere una famiglia e avere delle passioni è assolutamente compatibile. Certo, d'altra parte appunto è anche una passione il lavoro stesso per cui non viene vissuto in genere come un sacrificio. Ecco conosciuto il protagonista adesso siamo pronti per avventurarci nel territorio di cui ci parlerai. Le staminali tumorali chi sono? Cosa sono? Allora una volta si pensava che il cancro fosse fatto da cellule tutte uguali un po' come un sacchetto che contiene delle palline tutte uguali ma da una decina d'anni si è scoperto che non è affatto così a parte che il cancro somiglia un po' a una barriera corallina perché è un ecosistema estremamente complesso ma poi al suo interno è possibile distinguere delle cellule più cattive e più maligne delle altre che sono state chiamate staminali tumorali. Queste cellule sono quelle che permettono al tumore di vivere, di rigenerarsi continuamente e qualche volta come vedete anche nell'animazione di migrare in altre zone del corpo per formare le metastasi che sono degli avamposti del tumore che si sviluppano in altri organi o tessuti. Le staminali tumorali sono anche quelle cellule che permettono purtroppo qualche volta ai tumori di resistere alle terapie e di ripresentarsi anche magari dieci anni o vent'anni dopo che il paziente ha fatto la terapia ed è apparentemente guarito. Quindi sono cellule molto importanti da studiare. Mi piacciono molto le tue metafore, questa anche del cancro come barriera corallina, come ecosistema composto da tante cellule diverse, quindi è un organo a tutti gli effetti con varie cellule. Interagisce con tutti gli altri. Interagisce con tutti gli altri e quello che mi preme sottolineare rispetto a queste staminali è che noi parliamo sempre di staminali, ma queste sono staminali un pochino diverse rispetto all'accezione comune che diamo alla parola staminale. Qui parliamo appunto di cellule, di questo organo specifico che è il tumore, che come le altre staminali lo rigenerano, le permettono appunto il mantenimento in vita e lo fanno in un modo continuo, mentre in altri organi le staminali spesso rimangono quiescenti molto molto a lungo, per esempio nel caso del cervello non è ancora ben chiaro se ci siano o se non ci siano. In questo caso, insomma, spesso si sviluppano molto velocemente, però hanno anche loro la possibilità di mettersi a volte un po' tranquille, no? Che caratteristiche hanno esattamente? Le staminali tumorali, diciamo che hanno rubato diverse caratteristiche alle staminali normali che si occupano di rigenerare i tessuti danneggiati, per esempio, però hanno anche delle caratteristiche proprie particolarmente degenerate, nel senso che sono delle cellule molto mutevoli anche, sono difficili da identificare perché all'interno del tumore possono cambiare un po', si chiama il loro fenotipo, cioè il loro aspetto, è come se si mettessero di volta in volta un cappotto diverso che le rende difficili da riconoscere. E soprattutto la loro caratteristica principale è che sono dotate di un'estrema plasticità, che è quella caratteristica che gli permette di cambiare continuamente e adattarsi sempre molto prontamente ai cambiamenti di ambiente esterno. Questa plasticità e robustezza sono le caratteristiche fondamentali delle staminali tumorali. Per esempio, prima di vedere in dettaglio questa slide, parli di cambiamenti, mi viene in mente che l'interno del tumore è tipicamente caratterizzato, nel caso di tumori solidi, da una condizione di basso livello di ossigeno, per esempio, quindi loro sono in grado di adattarsi anche a questo tipo di condizioni. Assolutamente sì. E proprio uno dei modi con cui le staminali tumorali si adattano a delle condizioni difficili come la scarsità di ossigeno o la scarsità di sostanze nutritive che si crea all'interno di un tumore è proprio attraverso la quiescenza o dormienza, che è uno stato che le cellule staminali tumorali acquisiscono proprio grazie alla loro plasticità e adattabilità, è uno stato in cui la cellula è addormentata come uno stato di vita sospesa in cui la cellula staminale tumorale può rimanere nascosta per anni o persino per decenni per poi risvegliarsi eventualmente e rigenerare un tumore simile a quello di origine. In questo stato la cellula ricorda un po' i semi delle piante che sono come addormentati ma in questo stato sono molto più resistenti di una pianta alle condizioni avverse, possono rimanere lì per decenni e poi possono rigenerare un organismo nuovo. Ecco, le staminali tumorali quiescenti sono un po' come i semi del tumore. E di nuovo queste metafore efficacissime, grazie. E intanto chiedo a voi che ci state seguendo, rinnovo l'invito, se avete delle domande, se qualcosa non è chiaro, se avete delle curiosità o volete approfondire magari qualcosa che è stato detto finora, scriveteci in chat e noi insomma risponderemo molto molto volentieri. Questo è il territorio, voi come andate alla scoperta di questo territorio? Cioè di cosa vi occupate e poi vedremo anche magari quali sono un po' i risultati principali che avete ottenuto. Il nostro lavoro è proprio quello di studiare le staminali tumorali quiescenti e di trovare dei nuovi modi per identificarle e soprattutto per distruggerle, sia mentre sono nello stato quiescente, diciamo mentre sono addormentate, oppure almeno dei modi per mantenerle addormentate per sempre in modo da prevenire che si risvegliano e prevenire una comparsa o ricomparsa del tumore. All'inizio di quest'anno è stato pubblicato un nostro studio che ha mostrato come le staminali tumorali quiescenti possiedano un particolare armamentario di proteine che gli garantiscono plasticità, robustezza e una massima resistenza alle terapie. Quindi in questo senso è stato fatto un notevole passo avanti nel riconoscere queste cellule e capire i meccanismi con cui resistono alle terapie e sono particolarmente robuste appunto. Ecco, diciamo che aver identificato queste proteine da un lato permette di avere dei marcatori immagino, cioè di avere come delle bandierine che dicono guarda che questa cellula che ha questa proteina è una staminale tumorale. È utile per fare questo. E poi immagino che sia anche utile perché se capisco che quella proteina serve o meglio garantisce appunto plasticità, robustezza o resistenza alle terapie, posso cercare di sviluppare un farmaco specifico contro quella proteina e quindi lavorare in modo molto mirato su quel particolare tipo di cellula che è così insomma pericolosa per la nostra salute. Esatto, sono i cosiddetti farmaci a bersaglio molecolare che sono diretti contro una particolare proteina che è utile al cancro per sopravvivere e moltiplicarsi. Ecco, quindi questo è proprio un passaggio fondamentale, cioè il primo passaggio, la descrizione delle caratteristiche della cellula è la base da cui si parte per identificarle, quindi meglio la so identificare, meglio poi la riesco a studiare perché è più facile individuarla e per sviluppare delle terapie. Esatto, è l'ABC. Le nostre ricerche insieme a quelle di tanti altri laboratori che nel mondo studiano le staminali tumorali hanno anche mostrato una cosa che poi ci porterà a vedere come applicare queste conoscenze nella vita di tutti i giorni, cioè il fatto che le staminali tumorali sono estremamente sensibili agli stimoli che gli vengono dall'ambiente esterno e questi stimoli possono sia indurle a dividersi, quindi a far progredire il tumore, sia invece a mantenerle nello stato addormentato oppure viceversa quando si trovano addormentate a indurle a risvegliarsi e quindi è importantissimo capire quali sono questi stimoli che influiscono sulle staminali tumorali e come fare a controllare questi stimoli in modo da rendere queste cellule meno pericolose. Cerchiamo di capire come fate a studiare queste cellule, se sono anche così difficili da identificare. Immagino, forse c'è stato un percorso storico, non credo che le abbiate individuate voi per primi, correggimi se sbaglio. Giusto, giusto. E poi appunto voi invece come fate a occuparvene? Esatto, c'è stato un percorso storico perché diciamo anni fa i sistemi sperimentali in vitro su cui si studiavano i tumori erano rappresentati da cosiddette linee cellulari commerciali che sono delle cellule che proliferano, si dividono con grande rapidità e queste colture cellulari praticamente non contengono cellule quiescenti per cui queste cellule quiescenti un po' sfuggivano all'occhio dei ricercatori. Invece negli ultimi anni sono stati adottati dei sistemi molto più sofisticati tra cui quelli che usiamo noi per le nostre ricerche che potete vedere in queste bellissime immagini e questi sistemi si chiamano organoidi e sono delle strutture tridimensionali che si originano da cellule staminali e che hanno la particolarità che riproducono tutta la complessità del tumore, un po' quella cosa della barriera corallina che dicevamo prima. Come potete vedere in questi organoidi ci sono tanti tipi di cellule diverse che fanno cose diverse e quindi in questo senso la ricerca sta facendo grossi passi avanti perché questo tipo di coltura contiene una notevole quantità di cellule staminali tumorali quiescenti che quindi sono accessibili e utilizzabili per i nostri studi. Sono quelli che vengono chiamati mini organi anche, no? Perché appunto c'è l'idea che riprodu... Mini tumori. Esatto, in questo caso mini tumori. Gli organoidi appunto sono utilizzati nella ricerca biologica ormai ampiamente per tantissimi tipi di studio, non solo nell'ambito dell'oncologia molecolare e cellulare ma anche nell'ambito di altre discipline perché appunto riproducono in piccolo la maggior parte, non proprio tutte, però la maggior parte delle funzionalità dell'organo di partenza con la facilità di studiarlo. Come fate però a costruire un organoide? Come si fa? Come si ottengono queste cose che vediamo in questo schermo che sono effettivamente molto molto affascinanti ma appunto concretamente qual è il lavoro, i passaggi e quanto tempo ci vuole per fare uno di questi oggetti? Allora, tutto comincia con un viaggio dal laboratorio alla sala operatoria perché una di noi si reca proprio in sala operatoria dove i chirurghi con cui collaboriamo ci danno un pezzo di tumore appena rimosso dal paziente e noi prendiamo questo pezzo di tumore, lo dissociamo e quindi lo diciamo un po' lo spappoliamo rendendolo a singola cellula e queste cellule vengono messe in un terreno di coltura semisolido quindi un po' gelatinoso con un sacco di sostanze nutrienti adeguate anche molto costose tra parentesi che si chiamano fattori di crescita dopodiché tempo alcune settimane da queste colture cominciano a svilupparsi questi mini tumori, questi organoidi tumorali che all'inizio non sono neanche visibili a occhio nudo poi man mano che crescono si vedono bene al microscopio diciamo non diventano mai grandissimi però si possono anche vedere a occhio nudo come come delle bricioline diciamo ma al microscopio poi si vedono bene e questi sono i nostri materiali di studio. Alcune settimane quindi ed è un processo che tendenzialmente va bene o anche la costruzione dell'organoide rientra in quei processi che possono a loro volta? Guarda devo dire che tendenzialmente va bene, noi facciamo soprattutto organoidi da tumore intestinale, tumore del colon e quasi dire addirittura il cento per cento dei pezzi tumorali danno organoidi. Bene quindi vuol dire che avete sviluppato un buon protocollo per... Sì 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 ci abbiamo messo anni e ci hanno lavorato molte persone ma alla fine ci siamo riusciti. Dico anche questa cosa che gli organoidi non solo li studiamo lì per lì ma possono essere anche congelati conservati per anni in una biobanca dove sono associati a tutta una serie di dati sia clinici che molecolari che ci permettono di avere una visione molto più ampia dei processi che stiamo studiando. Perfetto intanto è arrivata una domanda e ringrazio e ci chiedono come nasce una cellula staminale tumorale quindi andiamo un pochino a monte di queste cellule. È un'ottima domanda. Una staminale tumorale generalmente si forma da una staminale normale di un organo o di un tessuto perché come accennava Valentina prima tutti gli organi e tessuti o praticamente tutti contengono delle cellule staminali che gli permettono di sopperire a tutte le necessità del corpo ogni giorno. Per esempio le staminali del sangue abitano nel midollo osseo e tutti i giorni producono le cellule del sangue. Per motivi che ancora non si conoscono perfettamente ma che un pochino vedremo anche nelle prossime diapositive, a un certo punto una staminale normale può cominciare a degenerare, ad acquistare delle caratteristiche maligne. Come spiegherò più avanti una cosa che favorisce questa degenerazione della staminale normale in tumorale è un ambiente, un microambiente in qualche modo avvelenato, intossicato e quindi la presenza di stimoli c'è un po' che avvelenano la cellula staminale normale e innescano una serie di processi che la fanno trasformare in cellula staminale maligna. Sono processi che hanno a che fare con il DNA, ci si modifica proprio il DNA di queste cellule oppure succede qualcos'altro? Varie cose, allora il DNA sicuramente è coinvolto in questa trasformazione, spesso ci sono delle mutazioni vere e proprie che possono essere causate da sostanze chimiche o anche per esempio da raggi ultravioletti ma una parte molto importante in questa trasformazione è giocata da fattori cosiddetti non genetici quindi non relativi al DNA ma epigenetici relativi al diciamo un po' alla vita quotidiana della cellula e al suo modo di gestire gli stimoli esterni. Allora proviamo ad andare un pochino in questa direzione, hai fatto riferimento a questo ambiente, a questo microambiente in cui vive la cellula, la staminale tumorale, che cos'è? Il microambiente della cellula staminale tumorale è quella diciamo quelle cellule e quei tessuti che si trovano immediatamente intorno a lei ma in senso lato l'ambiente di una cellula siamo noi, è il nostro corpo quindi come vedremo anche più avanti è importantissimo avere cura del nostro corpo perché proprio così possiamo influenzare fortemente le probabilità che un tumore compaia o ricompaia nelle persone che ce l'hanno già avuto oppure che non compaia affatto e quindi che possiamo rimanere sani per tanti anni. Certo. Che cosa appunto abbiamo parlato di stimoli che possono intossicare un pochino questo ambiente no? Andiamo nel dettaglio, quali sono i principali? Allora una cosa molto importante è l'alimentazione. Se noi introduciamo nel nostro corpo dei cibi troppo grassi, troppo salati, troppo zuccherati oppure cibi industriali molto conservati oppure anche se fumiamo o se beviamo alcolici o se viviamo anche in una zona molto inquinata nel nostro corpo si crea un ambiente che è caratterizzato proprio da un'intossicazione, da una scarsa presenza di ossigeno e da un accumulo di sostanze velenose. Allo stesso modo se una persona non fa attività fisica, le cellule del sistema immunitario che vivono nel sistema linfatico, che è un po' come la loro rete autostradale, non riescono ad andare bene in tutto il corpo, a ispezionare tutte le zone del corpo perché il sistema linfatico pompa le cellule del sistema immunitario nei vari distretti corporei soltanto quando il corpo si muove, per questo è così importante. Quindi siamo nell'ambito appunto delle abitudini, dei comportamenti di vita, l'alimentazione, il fumo, il consumo di alcol, l'inquinamento che è una cosa sulla quale abbiamo purtroppo, finora abbiamo poco, poca presa individuale, potremmo forse avercene di più se ci ponessimo tutti il problema e chiedessimo a gran voce insomma delle soluzioni da questo punto di vista e appunto il livello di attività fisica e quindi questo è diciamo il lato negativo, quello che può creare questa situazione tossica nel nostro organismo, c'è ovviamente un lato positivo, c'è qualcosa che invece possiamo fare per far star bene il nostro corpo e il nostro ambiente. Ecco questo è ancora riferito a questa trasformazione. Come dicevo prima un ambiente, un corpo, un ambiente nel corpo intossicato favorisce la trasformazione delle cellule staminali normali in cellule staminali tumorali e fa aumentare la probabilità che si sviluppino tumori, d'altra parte mangiare tanta frutta e verdura, evitare cibi industriali, fare sport, bere tanta acqua, non bere alcolici, non fumare e mantenere il nostro intestino che è importantissimo in buona salute, sono tutte condizioni che creano nel nostro corpo un ambiente sfavorevole allo sviluppo di tumori perché in un corpo sano se una cellula tumorale compare o anche una cellula staminale tumorale riesce a svilupparsi viene rapidamente eliminata dalle cellule del sistema immunitario. Ecco tutto ciò non significa che se io per forza, cioè se io appunto mangio sempre benissimo, faccio tanto sport, non bevo mai alcol, non fumo, non mi ammalerò mai e viceversa non significa che, cioè è una linea un pochino sottile però forse è importante sottolinearlo perché poi l'obiezione classica che si fa, sì però mio nonno fumava 20 sigarette al giorno ed è morto a 95 anni. Sì ma magari il nonno andava a lavorare nell'orto tutti i giorni all'alba e ci stava 12 ore, cosa che noi non facciamo. Diciamo che è una questione di probabilità, gli scienziati hanno calcolato che se uno ha uno stile di vita sano e fa tutte quelle belle cose che dicevamo prima, ha un 50-60% di probabilità in meno di ammalarsi di tumore e quindi questo è quello che possiamo fare, cercare di metterci sul piatto della bilancia giusto e fare tutto possibile per cercare di stare bene. E farlo fin da piccoli però, cioè l'ideale sarebbe appunto, noi stiamo parlando a ragazzi molto giovani che magari pensano che siano problemi da adulti, no? Purtroppo no, prima si comincia meglio. La brutta notizia è che negli ultimi anni c'è stato un aumento notevole dei tumori nella fascia più giovane della popolazione, in particolar modo dei tumori dell'intestino, che è un organo che ovviamente è più sensibile a quello che noi mangiamo e si pensa, anche se si sta cominciando solo adesso a studiare questa forma di tumore giovanile dell'intestino, si pensa che abbia una forte correlazione appunto con l'alimentazione, con lo stile di vita e anche con quello che ci succede da bambini. Certo, perché il punto è che la salute è qualcosa che si costruisce giorno per giorno da subito, non significa che non si possa andare una volta ogni tanto con gli amici a mangiare insomma l'hamburger con le patatine, però ecco dovrebbe essere una volta ogni tanto, non dovrebbe essere una cosa quotidiana che peraltro poi sommata l'hamburger con le patatine, la sigaretta, insomma l'alcol, meglio di no per nessuno ma sicuramente no fino a vent'anni per dire. Poi la vita sedentaria, magari antibiotici, altri farmaci, insomma tutto insieme, l'inquinamento atmosferico, tutto insieme può creare proprio questa situazione di intossicazione che favorisce lo sviluppo dei tumori. Una cosa che ci tengo a dire è che è molto importante questo fatto di prendersi cura del proprio corpo nelle persone che hanno già avuto un tumore, che pensate in Italia sono 3 milioni e mezzo, circa il 5% di tutta la popolazione, quindi una quantità enorme di persone. In queste persone appunto uno stile di vita sano è particolarmente importante perché dopo l'operazione per il tumore, dopo le terapie potrebbero rimanere delle cellule staminali tumorali annidate in varie zone del corpo e uno stile di vita sano contribuisce a mantenere queste cellule addormentate possibilmente per sempre, quindi è molto importante per impedire la ricomparsa del tumore. Certo, e questa è diciamo un'ulteriore giustificazione del perché è importante studiare queste cellule. Esatto, mi piace finire dicendo che conoscere le cellule staminali tumorali è importantissimo per non ammalarsi o non riammalarsi di tumore. Allora, intanto grazie per questa presentazione, abbiamo ancora qualche minuto, quindi se avete delle domande vi invito nuovamente a inviarle nella chat del webinar, così possiamo rispondere. Io sono veramente grata, Dan, per questo viaggio che ci ha permesso di intanto avvicinarci un pochino al mondo della ricerca, scoprire dalle nostre abitazioni oggi in questa veste un po' particolare come in realtà poi lavorano e vivono i ricercatori e le ricercatrici. Ci ha permesso di dare uno sguardo a queste cellule particolari dei tumori, alle caratteristiche che magari li rendono così difficili da combattere, c'è il problema del tumore poi, la sua mutevolezza, la sua appunto resistenza alle terapie, ma la cosa più affascinante secondo me è stato questo collegamento tra il micromondo di queste cellule e il macromondo nel quale viviamo immersi, quindi tutto si tiene ed è veramente importante sottolineare questo aspetto. Allora, è arrivata una domanda. Purtroppo i tumori si sviluppano a volte anche senza fattori di rischio relativi allo stile di vita ed è difficile spiegare anche agli ammalati perché è capitato proprio a loro, no? Come si può aiutarli? È vero che alle volte i tumori si sviluppano senza un apparente perché. Ci possono essere dei fattori ereditari per cui questo succede e purtroppo diciamo che in teoria nessuno può essere completamente immune da questa possibilità. Come dicevo prima, quello che possiamo fare è cercare un po' di far pendere la bilancia verso la probabilità di rimanere sani prendendoci molta cura del nostro corpo. Quando una persona ha un tumore, diciamo, la spiegazione a volte non la possiamo dare però quello che è importante è far capire che in quel caso non è colpa sua perché magari ha fatto delle cose perché non andavano, appunto ci sono dei tumori che si sviluppano senza un apparente perché in questo caso bisogna in quella condizione, in presenza del tumore, in presenza di terapie, a volte anche devastanti, avere ugualmente cura del nostro corpo e fare tutto il possibile per aumentare le possibilità di guarigione. Per capire perché a volte i tumori si sviluppano senza apparente motivo e qui c'è bisogno di mandare avanti la ricerca. La ricerca è imprescindibile sempre. Da qualunque punto si guardi il problema non possiamo farne a meno. La ricerca assolutamente deve continuare e insomma dovrebbe continuare anche con un'attenzione profonda da parte di tutti, da parte anche della scuola. Forse queste circostanze proprio di queste settimane stanno facendo anche capire quanto è importante fare ricerca, non bisogna ridursi alle condizioni dell'emergenza per capire che la ricerca è importante ma bisogna farla e sostenerla tutto il tempo. Esatto, anche se appunto diciamo che sul cancro si può e si deve continuare a fare e fare molto di più tanto appunto è stato fatto. E a questo proposito probabilmente sarà l'ultima domanda se non ne arrivano altre. Volevo chiederti se ci sono già delle terapie per esempio specifiche contro le staminali tumorali magari per qualche tumore in particolare, specifico, se sono terapie anche in sperimentazione. Insomma, visto che abbiamo parlato del fatto che conoscendole le si può appunto magari attaccare e in modo più specifico, se c'è già qualcosa di questo tipo. Sì, ottima domanda. Chiaramente le staminali tumorali sono il bersaglio favorito per le terapie per il cancro. Ci sono molte terapie che però sono principalmente ancora in fase sperimentale, dirette contro le staminali tumorali e alcune di queste sono le cosiddette terapie appunto a bersaglio molecolare in cui si cerca di colpire una molecola, una proteina che è espressa specificamente dalle staminali tumorali. È un terreno un pochino diciamo spinoso perché, come dicevamo prima, le staminali tumorali hanno la dote della plasticità, per cui spesso mutano anche le loro proteine di superficie e il bersaglio in questo modo viene a mancare. Un'altra difficoltà è che quando, lo vediamo anche giorno per giorno nei nostri esperimenti, quando noi riusciamo ad eliminare la popolazione di staminali tumorali, delle cellule tumorali non staminali si evolvono e prendono il loro posto. Un po' come se in un esercito tu riesci ad eliminare il capitano e quando l'hai eliminato non è che l'esercito sparisce, altri diventano capitani e quindi l'esercito continua a combattere. Quindi questa della terapia contro i staminali tumorali è un argomento molto attuale, in continua evoluzione, in cui speriamo di avere presto dei risultati buoni. E quando succederà tornerai a raccontarceli, assolutamente, anche prima. Speriamo di incontrarti di nuovo anche prima, però insomma le buone notizie ovviamente le racconteremo subito e diffusamente. Allora ringrazio tantissimo Anna Zeuner per essere stata con noi in occasione di questo webinar. Allora se magari anche riguardandolo vi vengono in mente altre domande, se c'è qualcosa che avreste voluto chiedere ma magari siete stati un po' timidi, non avete avuto il coraggio di farlo oggi, insomma per qualunque domanda che vi possa sorgere nei prossimi giorni sulle cose di cui abbiamo parlato oggi potete continuare a farle inviandole all'indirizzo email info-scuola.airc.it Vi invito di nuovo a visitare il sito webinar-scuola.airc.it dove Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro raccoglie appunto i materiali che abbiamo, che sono stati prodotti per questi webinar e le registrazioni degli appuntamenti già fatti. Vi saluto, buon isolamento a tutti e ci vediamo nei prossimi giorni con nuovi appuntamenti. Grazie. Grazie, grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.